Non sarà facile, più altrettanto è abbastanza a gusto per cui è il personaggio giusto per condurre questi mezzi. Poi vi ricordiamo ovviamente il grande freestyle, sabato e domenico avremo anche due gare di enduro cross nell'area esterna dedicata alle aree sportive e una gara di super motar con dei grandi esperti della terapata per cui quattro giorni di grande attività qui a Moto Days Roma!